Gli organizzatori hanno reso noto il disegno dell'edizione 2024 del Rally della Valle Intervi. La gara, con validità nazionale, è tornata due anni fa dopo una lunga pausa nel ricordo del suo storico organizzatore Enrico Manzoni, scomparso nel 2020. L'appuntamento è fissato per i prossimi sabato 18 e domenica 19 maggio. Le prove sono state disegnate in tutti i paesi del territorio, una scelta ben mirata in collaborazione con le amministrazioni locali. Tra queste spicca un'importante novità, una speciale disegnata in paese a Lanzo di poco meno di 2 km, che aprirà la corsa il sabato alle 16.20, poco dopo la partenza dalla piazza centrale di San Fedele. Sono stati previsti 9 tratti cronometrati per un totale di 64 km. Sarà dunque una corsa decisamente impegnativa. Le altre prove da ripetere due volte fra sabato e domenica saranno la Osteno-Laino-Teller, la Pigra-Blessagno, la Bolla e l'Argenio-Schignano-Cerano. L'arrivo finale con la cerimonia di premiazione sarà domenica 19 maggio a San Fedele. Organizzazione dell'evento a cura della Valle Intel di Corse. L'apertura delle iscrizioni sarà giovedì 19 aprile con chiusura mercoledì 8 maggio. Il parco assistenza sarà collocato a Lanzo sulla strada Fonte-Paraviso. Lo scorso anno il successo fu ad appannaggio di Andrea Spataro e Omar Piras su Volkswagen Polo. Le premiazioni parteciparono, tra gli altri, l'allora questore di Como Leonardo Biagioli e il presidente di Acicomo Enrico Gelpi. A proposito di Acicomo, l'ente di Viale Masì è già al lavoro per la sua gara. Il trofeo Villa d'Est nel 2024 è in calendario nel fine settimana del 13 ottobre. La corsa farà parte del calendario della serie nazionale trofeo italiano-reli della Coppa Italia di zona. Come da tradizione l'evento avrà quale scenario le strade del Triangolo Lariano e delle valli ad ovest del lago.